Se che è anche all'ostacolo, cioè attraversare il cane, questa è la difficoltà del Zugo. Pronto? No no, attraversa. 3, 2, 1, via! Allora diamo un punteggio di 8,50 al primo concorrente, adesso prepara Zambonin. Allora ci che tocca! Zambonin! Zambonin, si torna a casa. Ah, sei lì? Ah, sei pronto Zambonin! Scusate eh? Sabito la rincorsa! Puri a prepararti! Allora, arriva Zambonin! Ti sento pronto? Dato ore! Dato ore che l'è pronto! Vai Zambonin! 3, 2, 1! 7,99! Allora, vabbè, è cucita! Vabbè, ci che tocca! Allora, l'assistente Vighini provvederà a bagnare il prossimo concorrente che è Andrea Pigna! Pigna! Eh, Pinoli, Pigna! Allora, dai, finché c'è che avanza Pigna, andiamo ad Andrea Zanotti! Andrea Zanotti sposa una bellissima, una bellissima t-shirt leopardata blu! Allora, vuoi il casco? Vai! Niente casco! Il ragazzo va senza casco! Vabbè, calma, senza casco! Ma il gara, la parrucca, il gara! Allora! Vabbè, la personaggia più bella di stasera, vai! Tengo che un applausino per la Miss! Allora! Allora, allora, allora! C'è una buona rincorsa! Com'è che si chiama? Andrea Zanotti! Vabbè che fa le foto di rito! Dai perché te che è il plutonio che ta' piene una fiaga e poi si secca! Zanotti! Non parte mia macchina fotografica, un attimo, eh! Ok! 3, 2, 1, vai! Questo è un femore da Spa! Premiamolo con un 9.00! 9.00! Mamma mia! Guardalo qua! È pronto! È quasi pronto! Ci sento? Sì! Io c'hai! Io c'hai! No, 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 no! Io c'hai! Io c'hai! Quei amici! Ti tengo niente paura! Allora! Pronto il suo rampo di lancio! Ma che c'hanno? 3, 2, 1! Dai dai che vuoi partire! Un attimo! 9!00! Allora! Un attimo che fiamo le foto! Un secondo che vuole fare delle fotografie qua per la situazione! Altrimenti io non so! Oh! Oh! Dai!